Ieronimus Bosch, però probabilmente lo si dovrebbe pronunciare Ieronimus Bosch, ecco lui in realtà aveva un nome completamente diverso, Ieroen Antonizun Van Haken, quindi Geronimo Ieron, figlio di Antonio Van Haken, proveniente da Aquisgrana. Ma di fatto lui poi prese un nome d'arte dalla cittadina in cui era nato, era nato a Sertogen Bosch, Bosch detto all'olandese, quindi Bosch è la pronuncia tedesca e Bosch è la pronuncia olandese. Quindi è nato in Olanda, in questa cittadina nasce nel 1453 da una famiglia di pittori e in questa cittadina morirà nel 1516. Ecco, tra il 1486 e il 1488 si unisce alla confraternita della nostra diletta signora della città natale, quindi di Sertogen Bosch, legata al culto della Vergine in connessione con il movimento mistico Devozio Moderna, molto attivo nei Paesi Bassi a metà del Quattrocento. Ecco, questa è una cosa importante comunque da focalizzare, su cui riflettere, perché è un elemento fondamentale. Poi noi sappiamo che è stato essenzialmente nella sua città, non ha viaggiato molto, però ha fatto poi un viaggio in Spagna e forse uno anche da qualche altra parte, ma in buona sostanza poi dopo ritornava nella sua cittadina dove, come abbiamo detto, è morto. Aveva avuto delle commissioni importanti, ad esempio da parte di Filippo il Bello, da non confondersi con Filippo il Bello francese, questo invece è Filippo il Bello, re francese, questo invece è Filippo il Bello, duca di Borbogna dal 1482 al 1506. Infatti, Filippo il Bello gli commissiona nel 1504 un tema che aveva per tema il giudizio universale. Però gli studiosi non hanno ancora stabilito se è effettivamente uno dei giudizi universali di Hieronymus Bosch che ci è rimasto, oppure proprio abbiamo perso questo che gli era stato commissionato da questo duca di Borbogna. Ecco, come dice un famoso storico dell'arte, di fatto però, a parte qualche altra piccola notiziola, cioè che, come abbiamo detto, era in una famiglia di pittori e che il fratello teneva al posto del padre, quando è morto il padre, le eredini di questa bottega di famiglia, e poi l'ha presa invece in mano Hieronymus verso la fine del 1400, quando comunque lui aveva già una sua bottega. Poi, bisogna dire che comunque questa famiglia, come spesso accadeva ai pittori all'epoca, si barcamenava, non nacque molto tranquille da un punto di vista economico, fino a quando però Hieronymus sposò una ricca borghese che aveva sette anni più di lui e si sistemò. E questo gli dà anche un po' più di sicurezza. Ebbe anche qualche altra commissione, oltre a quella del duca di Borbogna, di cui vi abbiamo detto, e poi per il resto non sappiamo più nulla. Non sappiamo, soprattutto, come è arrivato a questi strani soggetti, con i quali ha davvero dato una svolta alle tradizioni dell'arte, dell'iconografia ecclesiastica del tempo. Perfino i surrealisti del ventesimo secolo lo reclameranno come loro precursore, Salvador Dalì, per esempio. E sarà una ripresa, quella di Hieronymus Bosch, che era stato comunque apprezzato al suo tempo, per qualche decina d'anni, e poi era stato dimenticato per parecchi secoli. Molti sottolineano questa sua immaginazione fantasia sfrenata, bizzarra, e noi non sempre riusciamo a decifrare i suoi simboli, che si perdono nella nebbia. Il magazzino del suo mondo di pensiero non ci si apre così facilmente. Anche se l'iconografia del Tardo Medioevo a noi è abbastanza nota ormai, non sempre riusciamo a decifrare i suoi simboli. Però, di fatto, qualcosa lui ci trasmette. Che cosa vuole esprimere? Sicuramente non sono visioni di un pazzo, di un indemoniato, oppure, come vedremo, ne parleremo magari di uno che usava sostanze allucinogene. No! Perché queste fantasmagorie compaiono o su palle d'altare, o su quadri di oggetto religioso dei vari committenti, soprattutto. Quindi non sono solamente simboli, hanno un significato religioso importante, che un tempo devono essere comprensibili, poiché dovevano assolvere il loro compito, il servizio di edificazione spirituale. Dice Wilhelm Frenger, un famosissimo storico dell'arte tedesco, nato nel 1890 e morto nel 1946. Ecco quindi una pittura moralistica, dove si sottolinea, in maniera però, appunto, dicevamo, del tutto originale, la mancanza di ordine, la mancanza di moderazione, quindi il vizio, il peccato, attraverso anche la rappresentazione della punizione dei peccatori, che però è originale rispetto, ad esempio, a tutte le rappresentazioni dell'inferno e delle pene dell'inferno. Una l'abbiamo vista, vi ricordate, qualche sera fa, parlando della Basilica di San Petronio e in particolar modo della Cappella dei Remagi. Beh, è diversa, ecco, la rappresentazione che ne fa Bosch è veramente diversa, anche di queste pene, di questi peccatori. Le fonti di isperazione possono essere tantissime. Anzitutto nella sua città c'era una cattedrale, una cattedrale gotica. Siamo in un periodo di gotico, di tardo gotico, ecco, in questa zona, che era considerata delle fiandre, chiamiamole così, le fiandre olandesi, ecco. È una zona dell'Olanda, no? Però, ecco, risente di questa cultura, diciamo, mitteleuropea, di questo fiorire del gotico, un gotico, poi è stato detto anche gotico, fiammeggiante, insomma, un gotico in cui, comunque, la fantasia la faceva da padrone, per esempio, nei gargoyle, dei contrafforti della cattedrale di Sertogenbosch, oppure in alcune raffigurazioni che ci stupiscono, come, ad esempio, questa di Frau Welt, che, detto, diciamo, tradotto dal tedesco, vorrebbe dire più o meno una donna mondo rappresentata in questa statua, con tante metamorfosi e animaletti che, come dire, percorrono questa figura in maniera inquietante nella cattedrale di Worms. Sappiamo di determinati libri, ad esempio, la visione di Tundalo, che poi ispirerà un quadro della bottega di Bosch, appunto, famosissimo, che è quello che vediamo qua in basso della slide, no? Conosciamo dei libri, perché questa confraternita, per esempio, a cui lui partecipava, aveva, come dire, pubblicava dei libri, aveva delle scuole, addirittura, ad una di queste scuole, una di queste scuole è frequentata da Erasmo da Rotterdam. Poi, altre fonti di ispirazione potrebbero essere le danze di morte macabre. La nave dei folli di Brandt sicuramente ha ispirato la nave dei folli di Bosch, oppure il libro dell'Apocalisse, altri libri, appunto, della tradizione del centro-nord Europa, come Gerten, Ton Sint, Jans, oppure le illustrazioni del martello della strega, i libri di medicina contemporanea, come il libro di Paracelso, comunque anche libri anche antichi di medicina, che erano pubblicati a quell'epoca. Scrive, per esempio, aveva scritto qualche tempo prima, Eustache Duchamp, il mondo è codardo, corrotto e traballante, bramoso, confuso, sia l'uomo che la donna sono sciocchi, ora la fine è davvero vicina, tutto va storto, tutto va storto. Ecco, c'era ancora questa idea, diciamo, millenarista, questa idea comunque dell'imminenza del giudizio universale, la possiamo sicuramente trovare in alcune rappresentazioni di Hieronymus, Bosch, urla, raggiunsero il cielo, oppure altre fonti di ispirazione possono essere stati i fratelli Limburg, il libro dei soliloqui di Duke Berry, o i mostri contenuti in queste visioni di Tundalo, ancora possiamo leggere, ad esempio, un mostro enorme, orribile, che divorava tutto, che torturava le anime con il becco e gli artigli. Lui rappresenta, insomma, sulla tela, alcune visioni mostruose, orribili, che erano presenti nei libri che aveva letto. E se ha già ingoiato qualcuno, lo esperre orribilmente dalla parte inferiore del suo corpo. Se vediamo i particolari, perché è bellissimo vedere i particolari di questi quadri di Bosch, noi siamo andati a vedere una mostra dei quadri di Bosch a Milano. Abbiamo fatto una fatica enorme a goderci di questi quadri, perché c'era sempre tantissima folla, tantissima gente vicina ai quadri, proprio che cercava di carpire questi particolari, spesso così strani e affascinanti. le credenze popolari possono essere state una fonte per gli Eronymus Bosch, i proverbi della zona in cui è nato, il cosiddetto Brabante, i giri di parole, le metafore verbali che lui trasforma in qualcosa da vedere, la clownerie, il burleschio, i giochi misteriosi, i bestiari medievali che spesso rappresentavano, ecco, attraverso delle illustrazioni, quanto descritto nei libri come il fisiologo o come l'Historia Naturalis di Plinio il Vecchio. E allora ci si può chiedere, appunto, come si è chiesto Willem Frenger, sono solo ed esclusivamente prodotti di una fantasia maniacale, ossessioni demoniache dovute ad allucinogeni, a digiuni ossessivi, eccessivi? No, secondo l'interpretazione di questo storico dell'arte e anche la nostra, un po' sono dovute alla sua profonda, diciamo, religiosità. Ecco, a proposito di religiosità, si trattava comunque già di una religiosità che vedeva Roma con un po' di sospetto, soprattutto poi l'inquisizione, certi personaggi, certi frati, certi preti inquisitori, e allora nei meandri, insomma, di questi, nei meandri intendo dire, nei questi dettagli, piccoli dettagli di questi quadri di Hieronymus Bosch, vediamo delle figure bestiali che hanno indumenti di ecclesiastici e probabilmente quindi simboleggiano il declino morale e le divisioni della Chiesa del Tempo. Quindi, non so, preti maiali, preti pesce, no? O preti che diventano personaggi ibridi, caricature di preti. Forse è un'allusione satirica all'inquisizione, ha ipotizzato qualcuno, ma ricordatevi sempre che lui faceva parte integrante di una confraternita dedicata alla Madonna, a Maria, e di movimenti mistici, la cosiddetta devozio moderna. Aveva letto, probabilmente, testi di autori mistici o riformatori come Carthausis, Kempis, Tommaso da Kempis sarebbe, no? E appunto Erasmo da Rotterdam, che invece è un umanista, lo sappiamo. Poi ancora potrebbe aver conosciuto, anche se probabilmente lui fa capire attraverso la rappresentazione dei rospi nei suoi quadri, era anti-eretico, potrebbe aver conosciuto alcune sette, come i geronimiti, i fratelli dello spirito libero, gli adamiti, oppure potrebbe aver messo insieme svariate credenze di carattere sia popolare sia invece più intellettuale, mescolando un po' il tutto nella sua arte così originale. Deliri patologici, questo affresco per esempio di Bosch sembra condensare patologie psichiatriche e neurologiche sul muro. non dipingeva solo su tela ma anche sulla fresco. Qual è stata l'influenza dei lavori precedenti? Quali sono i lavori precedenti di pittori della sua zona che probabilmente lo hanno ispirato? Ad esempio le tentazioni di Sant'Antonio non è stato lui il primo a dipingerle. Per esempio un certo Martin Schongauer prima di lui aveva dipinto Sant'Antonio che si elevava al cielo e i diavoli tentavano inutilmente invece di spingerlo verso la terra e di tentarlo in tutti i modi. Oppure ci sono altri pittori che l'hanno preceduto di poco come Dirk Boots che ha rappresentato i dannati in questi quadri che si intitolano Sono Maledetti o pensate se vogliamo anche in ambito italiano alla Colazione della Bestia che è un affresco che è presente all'interno del Duomo di Pisa un mostro che divora con la sua bocca vorace certo però che in ambito italiano nel frattempo c'era stata la pittura del Quattrocento la prospettiva la pittura fiorentina toscana prima anche la pittura senese accanto a quella fiorentina che sembravano aver preso delle strade completamente diverse rispetto a Hieronymus Bosch questo è il motivo per cui la mostra che io ho visitato è stata intitolata proprio Hieronymus Bosch l'altro rinascimento siamo entrati subito all'interno della novità della straordinarietà dell'opera di Hieronymus Bosch perché l'opera che ci ha accolto è questo trittico delle tentazioni di Sant'Antonio uno dei tanti trittici con le tentazioni di Sant'Antonio che sono caratterizzati da alcuni aspetti che poi ritroveremo più e più volte cioè la molteplicità delle scene quindi non è così semplice capire di prima acchito qual è l'argomento principale di questo quadro è vero che Sant'Antonio è abbastanza al centro della scena ma sono talmente tanti gli elementi che ci distraggono se vogliamo che non è così scontato che l'occhio subito sia colto da questa scena di Sant'Antonio che li prega inginocchiato verso una cappella del Cristo in realtà tutto quello che lo circonda è ben altro ed è anche tutto ricco dicevamo di queste navi pesce e insomma di questi esseri strani di cui parleremo tra poco ma ne ha fatte tante di tante tentazioni di Sant'Antonio questa è proprio la parte centrale del trittico anche se isoliamo questa parte centrale del trittico comunque facciamo fatica a individuare il santo inginocchiato al centro ha dipinto dicevamo una nave dei folli ispirato da un pittore a lui di poco antecedente che è un dipinto conservato all'ouvre una metafora che riconduce all'albero del peccato originale della tentazione di Eva origine di tutta tutte le follie il peccato originale costituisce in senso mistico la follia per eccellenza c'è una metafora della colpa secondo il simbolismo biblico ecco uno dei tanti giudizi finali bellissimo a mio parere questo dipinto potete vedere che nella parte a sinistra per noi che lo stiamo osservando ma a destra di Dio alla destra del giudizio universale si trova il paradiso sotto il paradiso terrestre dove appunto Adam e Deva erano stati destinati e sopra il paradiso celeste al centro in alto Cristo giudice ai suoi lati gli apostoli e subito sopra di sé Dio padre che guarda quasi sonnecchiante insomma questa scena è sotto un insieme variegato e ricchissimo di situazioni che ci rappresentano un'umanità spesso smarrita alla ricerca di piaceri e di godimenti e quindi destinata come vediamo nella parte a destra del trittico alla punizione infernale sì sì veramente inquietante per esempio ce lo dice Consuelo Bettinelli che ha visto anche lei questo questo trittico è questi dipinti veramente originali di Hieronymus Bosch questo dicevamo la visione di Tundalo è un dipinto della sua bottega ma risente fortemente tant'è vero che per secoli e secoli è stato ritenuto un quadro di Bosch risente fortemente dello stile di Bosch così come quest'altro di Cristo al limbo che alla fine i critici hanno determinato essere stato dipinto quasi un secolo dopo rispetto ai quadri di Bosch quindi sicuramente dipinto da seguaci di Bosch ma con degli stilemi che rammentano sicuramente il modo di dipingere di Bosch proprio per esempio in quel quadro che abbiamo visto prima delle tentazioni di Sant'Antonio si intravedeva una scena infernale potrebbe averla presa potrebbe essere stato ispirato da Tommaso da Kempis che erano di quei mistici di cui abbiamo parlato prima che probabilmente addirittura è stato colui che ha scritto L'Imitazione di Cristo quindi testi importanti molto conosciuti nella cultura medievale e qui vediamo un testo poi magari se volete lo potete leggere tutto quanto noi ne prendiamo solamente alcuni brani no? Immagina una città coperta dall'oscurità che brucia di zolfo puzzolente fiamme pece questa città è piena di disperati che non possono né scappare né morire come gli sfortunati abitanti della città appena descritto descritta sono in un mare di orrore così dannati nel vortice dell'inferno tutti i loro sensi ogni parte del loro corpo soffre soffrono quindi sia la vista perché per esempio devono vedere la figura orribile del diavolo sia l'udito non si odono altro che pianti lui l'ha rappresentato così in questi toni così cupi in alcune parti dei suoi fantastici trittici quindi stavamo parlando di coloro che hanno ispirato Bosch adesso invece andiamo a riflettere sulla sua fantasia una fantasia straordinaria una fantasia eccezionale le sue immagini sono quelle che più ci colpiscono che potevano parere orribili dovete sapere una cosa c'era un un cardinale veneziano che era affascinato da questi quadri sapete cosa faceva lui li comprava e li teneva per sé perché non era possibile esporli in una chiesa italiana erano talmente lontani da quella che era la sensibilità insomma più mediterranea possiamo definirla così che lui li teneva perché aveva capito ha intuito la grandezza di questi dipinti ma insomma li teneva anche abbastanza nascosti ecco le sue immagini sono creature dell'inferno e della dannazione mostri gnomi bambini deformi figure umane mancanti di membra o con membra aggiunte ecco per esempio un vecchio che cammina cosa ne sarà della persona che si è impegnata nello stato di eterna infanzia materna del mistero della rana è illustrato questo nella figura dello sfortunato vecchio che arranca nella culla di un bimbo piccolo la sua testa fanatica dagli occhi duri arriva fino al mento il suo corpo senza braccia arriva fino alle caviglie fasciato vedete qui fasciato di rosso i suoi vestiti spazzano il terreno per creare la connessione più intensa con la terra per ragioni simili il vecchio stolto cammina scalzo per tutta la vita oppure al suo fianco la testa di piede c'è un essere mostruoso che ha solamente la testa e i piedi non si vede nient'altro della sua figura umana così deforme un volto superiore senza corpo e senza braccia mentre si distende come una rana dicevamo che rana e rospi scusate erano spesso simbolo di eresia la figura costituita dalle sole parti cerebrali e più basse e infime è un vero e proprio figlio di una rana il risultato è una vergognosa esposizione questa è veramente una tentazione diabolica l'empia oscenità sta avvenendo davanti agli occhi di tutti oppure vediamo altre figure fantastiche come questi ibridi uomini animali ci concentriamo su questa seconda figura dall'alto a sinistra che abbiamo visto anche nella slide riferita agli ecclesiastici perché si tratta di un nano dal ventre tondo e dalla vita di vespa con una coda di salamandra e con ali appuntite un volto fanatico caratterizzate da un fermaglio sul naso la freccia conficcata nel piccolo nella piccola pancia del mostro e gli scudi testimoniano che qui è stato preso di mira un nemico molto determinato questa figura può essere un piromano un piantagrane ecco dicevamo stiamo parlando prima anche guardando un po' i colori usati qua rimandano anche alle vesti degli ecclesiastici oppure creature dell'aria come quelle che troviamo qua sulla destra che non riusciamo a spiegare secondo Frenger l'aquila l'aquila dal corpo di leone è un genio che afferra una tartaruga animale sprofondato nel caos della palude dalle profondità alla vita eterna tutte le creature volanti illustrano ritorno di pesci e uccelli mare e cielo in un etere eterno bene andiamo adesso a vedere per esempio gli ibridi uomini cose animali quindi gli uomini che poi sono anche figure quasi di uovo ecco l'uovo scusate è una figura molto presente nei disegni di Bosch quale troviamo due spesso queste figure sono trafitte infilzate da frecce che rappresentano una punizione divina orribilmente mostruose e deformi oppure uomini pianta uomini casa come appunto abbiamo detto nella visione di Tundalo e anche nell'altro quadro del limbo che abbiamo visto è stato dipinto da seguaci di Bosch oppure navicelle navi animali concentriamoci su queste mescolanza appunto fra animale e nave oppure cose animali quindi per esempio vediamo questo che potrebbe essere un cavallo che però ha un ventre che assomiglia a un otre che assomiglia ha un'anfora quindi come vedete una fantasia sfrenata animali che si ibridano fra di loro si mescolano fra di loro quindi ratti con la testa da ratto ma con il corpo di altri mammiferi oppure animali che sono anche piante piante uomini ecco come avviene per esempio in questa rappresentazione particolare diciamo dell'inferno e della dannazione con tante figure simboliche che si concentrano come per esempio il coltello fra le due orecchie appunto l'uovo che potrebbe rappresentare il germe di tutto ciò che esiste una totalità inclusiva indifferenziata l'inizio della creazione una potenza primordiale una femminilità inquietante che però qui come vedete è rotto è spezzato è una figura comunque frammentata oppure l'albero l'uomo pianta l'uomo che ha gambe che in realtà sono tronchi d'albero che può rappresentare o rammentarci la conoscenza l'albero della conoscenza del bene del male il paradiso la vita eterna la radice di Gesù l'albero genealogico di Gesù oppure quelle straordinarie piante edifici viventi che troviamo soprattutto nel trittico del giardino delle delizie eccolo qua il giardino delle delizie la forma femminile unificata della fontana della vita è separata in componenti femminili e maschili nelle formazioni rocciose a destra e a sinistra gli ornamenti organici delle due rocce vicine terminanti in forme vegetali alternano diversi simboli tra le cinque cattedrali della fecondità creatrice un'umanità che che vaga alla ricerca probabilmente del piacere un piacere che però è sicuramente spesso fine a se stesso e che sarà poi punito nella parte destra di questo trittico un altro trittico famoso è quello del fieno ho detto anche trittico del carro del fieno anche in questo caso troviamo una umanità varia che si arrabatta alcuni per esempio proprio per raccattare del fieno da terra o per cercare qualcosa che non li porterà ad altro se non alla dannazione che come al solito viene rappresentata nella parte a destra del trittico mentre a sinistra ancora una volta c'è il paradiso terrestre questi sono i dettagli di questo importante trittico del carro del fieno ci sono talvolta anche diciamo poiché il trittico certe volte anzi più del tempo rimaneva chiuso ci sono delle raffigurazioni anche nella nella parte delle ante quando le ante sono chiuse quindi dei dipinti di Hieronymus Bosch su queste ante che sono in uno stile completamente diverso infatti in questi dipinti che sono sostanzialmente monocromi prevalgono toni sul grigio infatti alla francese si dice grisail con una traduzione italiana grisaglia che magari non rende molto bene il caso ad esempio di questo globo terraqueo che si trova una volta che viene chiuso il trittico del giardino delle delizie eccolo qua il trittico del giardino delle delizie con il paradiso terrestre a sinistra da Moedeva e Dio in mezzo ai due queste architetture fantasiose che hanno sicuramente anche possono essere ispirate dalle guglie gotiche ma hanno questa grandezza fantastica che consiste nella commistione di elementi organici ed elementi inorganici cioè le cose mescolate insieme con gli esseri viventi e poi a destra quella rappresentazione dell'inferno che abbiamo visto più nel dettaglio in precedenza eccole qua proprio le parti a sinistra del giardino delle delizie e a destra del giardino delle delizie e questa invece è la parte centrale con questo pullulare di uomini e donne nudi che rappresentano i vizi tra l'altro lui ha fatto anche una bellissima tavola che è la tavola dei sette vizi capitali contorniata da quattro globi che rappresentano i novissimi cioè rappresentano i temi fondamentali che riguardano l'oltremondo quindi che riguardano la vita dopo la morte quindi la morte e dopo la morte anche il giudizio in particolar modo di Dio insomma tantissime creature assessuate spesso ibride omuncoli ciechi predoni dalla testa di uccello branchi di topi sono i protagonisti delle visioni di Bosch che sembrano perfino precedere il surrealismo come questa bellissimo questo particolare di questi di questi esseri che sono un po' tra gli insetti i rettili gli anfibi e proprio creazioni totalmente anche frutto della fantasia di questo straordinario pittore è evidente che Bosch ha comunque influenzato dei pittori dopo di lui per esempio in Olanda un pittore come Jan Venlands de Kock ancora una volta credo che qua siano rappresentate le tentazioni di Sant'Antonio qui sicuramente per esempio Lucas van Leiden come dice il nostro storico dell'arte tedesco inutilmente i diavoli i demoni insomma cercano di distrarre il santo o come Jan Mandijn o come Harry Matt de Bles o Peter Huys ci possiamo chiedere a questo punto se ha influenzato i grandi della pittura fiamminga dopo di lui beh sicuramente osserviamo un quadro del famoso Peter Bruegel ad esempio il quadro di Margherita la pazza sicuramente anche lui questa donna che si trova qua al centro più o meno del quadro leggermente spostata sulla sinistra è il soggetto principale di questa scena variegata sicuramente è stato ispirato da Hieronymus Bosch anche se i grandi fiamminghi della stagione successiva hanno anche loro una certa originarietà per alcuni aspetti leggermente diversi rispetto a quelli di Bosch e per quanto riguarda gli italiani beh nella nostra mostra che abbiamo visto alla fine c'era proprio un quadro di Arcimboldo perché è vero che la fantasia di Bosch potrebbe aver ispirato Arcimboldo anche in questo caso comunque si tratta di un pittore che ha poi scelto una sua via di rappresentare ad esempio volti umani come un insieme un puzzle potremmo dire di elementi vegetali o animali o di oggetti comunque con questa idea del librido della metamorfosi della trasformazione che anche potrebbe anche aver mutuato da Hieronymus Bosch ma secondo Filippo D'Averio il vero e unico rede italiano di Hieronymus Bosch è Iacovitti e provate a dire che non è vero se osservate con attenzione alcuni dei dettagli di questi enormi fumetti insomma di Iacovitti che sono così ricchi di personaggi anche qui ibridati forme umane presentate in forma isolata rispetto al corpo al corpo umano o accostati a oggetti cose o animali concludiamo la nostra serata su Hieronymus Bosch con una citazione che è dovuta ad uno scrittore di un secolo dopo un certo Lampsonio che scrive Hieronymus Bosch perché la tua faccia è spaventata voglio vedere i mostri infernali alati intorno alle tue orecchie credo che tu sia libero dalle profonde e oscure guerre delle ombre hai spalancato i rifugi satanici con la tua arte di cui sei maestro la tua mano giudiziosamente saggia dipinge e rivela tutto ciò che le profondità dell'inferno nascondono dentro di sé